Belen Rodriguez fa sul serio con Ello Lorenzoni e lo dimostra con l'anello che sfoggia all'annulare sinistro. Su Instagram pubblica la foto del brillocco, possiamo dire, accompagnata da una semplice parole ma enorme, cioè sì, scritto in maiuscolo. Del resto non servirebbero altre parole per annunciare ai follower che lei e l'imprenditore bresciano hanno intenzione di diventare presto marito e moglie. Una foto sui social dunque che lascia pochi dubbi, Belen avrebbe detto sì al nuovo fidanzato, alle Maldive, dove stanno trascorrendo in questi giorni una vacanza da sogno. E naturalmente si sono scatenati anche i follower fra chi approva e chi no. C'è infatti chi dice, criticandola, che prima di sposare Ello Lorenzoni deve divorziare da Stefano De Martino, o qualcun altro invece le dice, ti sposi dopo cinque mesi che conosci Elio. Altri invece la approvano e dicono, brava Belen, Elio sembra Marti in modo autentico.